Ciao a tutti, clicchini e clicchine, benvenuti in questo nuovo video finalmente, dopo una settimana praticamente. E allora spero non vi dispiaggia se ogni tanto mi sentirete masticare la gomma e poi insomma mi direte voi se è una cosa che non volete più perché non vi piace. Io trovo che sia un po' come i suoni di quando si mangia, una cosa molto fastidiosa dal vivo, cioè a me dà fastidio sentire una persona che mastica, cioè a tavola, così come mi dà fastidio sentire una persona che mastica un chewing gum o una caramella di persona però. Ma in video, nei video ASMR, quindi quelli con lo scopo di far rilassare, è una cosa che amo, sia il chewing gum che la caramella che è appunto l'itinzao. Allora questo è un video richiesto da più persone sui miei anelli, probabilmente perché negli scorsi video, siccome poi io gesticolo molto, le mani attirano l'attenzione, queste unghie insomma anche abbastanza tamarre, cioè sono andata veramente sul tamarro a questo giro ma mi piacciono molto. Quindi dicevo le mani attirano l'attenzione con queste unghie lunghe, con gli anelli appunto e capisco chi mi ha chiesto questo video perché anche a me cade molto l'occhio sulle mani delle persone, sulle unghie, sugli anelli. Io amo gli anelli, amo i gioielli in generale, quindi anche io probabilmente avrei fatto la stessa richiesta. Dunque vi faccio vedere prima gli anelli che sto portando praticamente sempre, tutti i giorni, ormai da un sacco di tempo e poi vi faccio vedere anche quelli che ho qui dentro. Sono tanti, io ho un rapporto molto particolare con gli anelli, questo è un piccolo, vediamo se riesco a farvelo vedere senza far cadere niente, questo è un piccolo portagioie. Mi ho comprato su Amazon uno nuovo più grande in cui posso mettere anelli orecchini con l'ane, poi magari ve lo faccio vedere in un altro video, anche perché mi avete chiesto quello sui gioielli in generale, non che io abbia 3000 gioielli. Insomma, sono molto spartana in queste cose. Comunque, comunque, vediamo un po'. Allora inizio da quelli che porto sempre, in realtà questo qui, che ha un sacco di anni, l'ho appena cambiato. Fino a poco fa avevo questo al suo posto che è dimorellato di secoli fa, veramente. Ero così. Ecco. Però siccome bovioni tanto li cambio, allora ho messo questo che non mettevo da un bel po' di tempo. Più sottile, più fine. Sprilugicoso. Allora, quindi, partirei proprio da questo. Che è, come si chiamano, verette, una veretta. Ed argento, io uso praticamente solo argento o acciaio, a parte questo che è in oro bianco, però bracciali con l'anorecchini uso sempre solo argento o acciaio. E questo qui l'ho preso, forse ve ne ho parlato anche in un altro video, tanti anni fa, in un negozietto, in una gioielleria, in centro a Lucca, durante il Lucca Comics. Quando ho preso anche, mi pare che fosse lo stesso anno, in cui ho preso la pasta intelligente. Ve la ricordate? La pasta intelligente, il video che ho fatto sulla pasta intelligente. Eccolo qui, non so se riesce a metterlo a fuoco la webcam, insomma, comunque veramente semplice. E lo adoro, perché nonostante abbia un sacco di anni, e nonostante l'abbia usato per un sacco di tempo, senza toglierlo mai, e quindi, con una banalissima pulizia, ritorna sempre come nuovo. E lo amo, e quindi lo tengo qui, sul mio medio destro. Sempre restando sulla mano destra, se sentite rumori molesti, è Bea che sta russando. Dicevo, rimanendo sempre sulla mia mano destra, vi faccio vedere questo qui, che anche di persona, molte amiche, molte persone che incontro, mi dicono, oh, fiorio, oddio, che bello questo anello particolare. In realtà, io lo trovo molto semplice, ma forse è proprio per questo che colpisce. Questo qui è di Pandora. Se vi piace, provo a vedere se c'è su Amazon e vi metto il link sotto il video. non mette bene a fuoco, porca miseria, perché è la webcam, comunque. Non so come, eccolo, 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 eccolo. È molto, io lo amo, perché non metti a fuoco, accidenti, come prima. Comunque per un attimo si è visto. ce la fa, eccolo, eccolo, per qualche secondo c'è stato, comunque. Tra l'altro è uno di quelli che costano di meno, mi pare che costi tipo 39 euro, poi Pandora ha sempre i prezzi fissi. e lo amo tantissimo, mi piace tanto e l'ho preso forse due anni fa, più o meno, al centro commerciale a Bologna, in modo il centro commerciale di Bologna, non ricordo quale, se devo essere sincera. e quindi questo, poi, quello che porto sempre fisso da quando Fabrizio me l'ha regalato è questo, che è un semplicissimo anellino in oro bianco e brillantini. non so se sono sfarocce, non sono diamanti, ecco, per intenderci. Non lo mette a fuoco tanto per cambiare. Dai, solo qualche secondo su. Uno, due, tre, quattro, cinque. Dai, dai, solo un po'. E fallo vedere, accidenti. Devo attrezzarmi per registrare i video con la fotocamera e che non trovo la mia scheda SD, due, si è persa nel traslogo e non ho voglia di comprare un'altra. Eccolo, 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 eccolo. Molto semplice in oro bianco. L'anno scorso, questo me l'ha regalato, non mi ricordo se... Ah, no, sì che mi ricordo, mi ricordo perché io ho fatto i video con la scuola 2019. Quindi, tre anni fa, Natale, Natale compleanno, perché io sono nata a dicembre e l'ho portato l'anno scorso o poco più, più o meno circa, dopo un anno e mezzo che me l'ha regalato dall'orafo per farlo rodiare perché praticamente in questa parte interna qua c'è la parte interna del dito qua tende l'oro bianco a ingiallirsi a forza di usurarsi perché poi non lo tolgo mai e quindi lo portai dall'orafo e me lo rodiò cioè mi fece la rodiatura cioè il bagno nell'oro bianco e torno come l'uovo e mi sa che tra un po' la rifarò una cosa che costa tipo 10 euro quindi una cosa che si può fare tranquillamente, periodicamente dal proprio orafo di fiducia allora, ora vi faccio vedere gli altri però seleziono quelli che di tanto in tanto rimetto quelli che non uso più insomma è abbastanza inutile farveli vedere comunque allora questo qui è quello che avevo prima di morellato e di acciaio ma non penso che esista più un commercio magari esiste qualcosa di similare ecco ovviamente non lo metto a fuoco ma lo appoggiamo per un prossimo video mi viene in mente di questo tipo vi faccio vedere qualcosa vi piacerebbe più vedere cioè avere la ripresa sugli oggetti anziché su di me fatemelo sapere nei commenti così vedo un po' anche come organizzare i video in base ai vostri gusti poi ho ovviamente la coroncina più semplice che c'è di Pandora che non è quella che hanno tutti che ha anche i brillantini questa è proprio la più semplice e la amo follemente magari presto la rimetterò e la metto sempre qui cioè questo lo tengo fisso non lo cambio mai questo lo stesso qui nelle altre dita difficilmente metto qualcosa mi piace dare come dire rilevanza solo a questo mentre gioco molto sulla mano destra e solitamente cambio questo ah questi li ho portati spesso anche insieme così ora ho le mani un po' gonfie spesso li ho portati così ora mi fa strano sono un po' particolare io con gli anelli quindi questa è la coroncina di Pandora poi questa non la metto da un sacco perché si è un po' è un po' diventata scura anche se lo era già abbastanza in partenza è una fede sarda sicuramente le avrete viste una fedina sarda un artigianato sardo poi questo è sempre di Pandora ed è una fedina liscia che ha i coricini però così qua forse anche questo lo conoscete poi questo qui è di Sagapo ma lo voglio regalare a qualcuno è d'acciaio anche questo anche se è color oro giallo mi piaceva molto ma lo voglio regalare a qualcuno perché mi sono pentita di averlo preso anni fa un sacco di anni fa ed è come nuovo perché a me non piace tanto l'oro giallo non so perché in quel momento mi era piaciuto e quindi l'ho comprato vabbè cose che capitano no però non sono riuscita a farvelo vedere bene ecco metti a poco dai no non ce la fa comunque si capisce e poi questo mamma mia ha una vita questo anello sempre d'argento è una specie di solitarietto in argento che mi aveva regalato sempre Fabrizio tanti anni fa ma proprio tanti tanti considerate che noi siamo insieme 13 anni da 13 anni questo me l'aveva regal tipo 10 anni fa ma poi c'è questo che non ho più messo nonostante mi piacesse molto mi piace ancora molto perché si è rovinato il disegnino ed è questo qui sempre di Pandora si vede che sono una grande fan vedete col pennentino ora non riesco a farvi vedere come si allora praticamente sul coricino da una parte c'è scritto vedete Pandora non si vede non si vede granché porca miseria non riesco ecco più o meno e la scritta diciamo si è un po' cancellata molto carino questo però lo stra stra usato stra usato e poi questa è una fedina sottilissima liscia 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 di acciaio semplice niente di che che portavo qui se mi gira me la rimetto anche portavo qui sull'indice ah ora provo a lasciarla vediamo se mi stanche e poi c'è un anellino che portavo sul mignolo simbolo dell'infinito che i miei genitori hanno regalato sia a me che a mia sorella però si è tutto storto e si è anche cioè è anche diventato nero che è questo d'argento e lo portavo qui sul mignolino ma questo già anni fa poi io sono così mi stanco delle cose e quindi cambio poi magari mi viene di nuovo in mente e lo rimetto cioè dipende queste due f queste sono due fedine normalissime argento a fascetta anche questa qui argento a fascetta però martellata queste non le uso praticamente più insomma vi sto facendo vedere tutto lo stesso e niente questi sono i miei anellini allora della coroncina pandora e di questo no di questo pandora provo a vedere se ci sono su amazon e vi metto il link magari vi piacciono per voi per un regalino link ovviamente affiliazione e così se comprate qualcosa sapete che mi date anche un supporto monetario piccolissimo in più però mi raccomando vorrei sapere da voi ovviamente nei commenti qual è quello che vi è piaciuto di più tra quelli che porto tutti i giorni sempre tra quelli che invece non porto più quali ci sono degli anelli conosciuti magari di brand conosciuti che adorate che portate sempre fatemelo sapere perché io sono curiosissima mi piacciono un sacco queste cose se volete farmi vedere delle foto magari scrivetemi in privato su instagram così ne parliamo lì perché mi rendo conto che nei commenti qua sotto a parte dirmi fiore a me piace che adesso la coruncina quella classica di pandora non potete farmi vedere niente siccome io sono fissata con i gioielli con gli anelli con queste cose se vi va ci sentiamo su instagram così mi fate vedere quelli che portate sempre magari poi mi fate venire voglia anche di prendere altre cose un po' d'ansi e e niente io spero che questo video vi sia piaciuto spero che i miei anelli vi siano piaciuti spero che vi siate rilassati questa è la cosa più importante vi mando un bacio grandissimo e ci vediamo al prossimo video ciao clicchini ciao ciao ciao